Nati sotto il segno di Ceres. Questa storia inizia anni fa, di notte, in un luogo molto lontano. Quella notte un minuscolo pianeta del Sistema Solare raggiunse il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Il corpo celeste si chiamava e si chiama Ceres, come l'antica dea della fertilità. Solo per poche ore la sua luce dorata fu visibile anche a occhio nudo. Ispirate dal pianeta, quattro coppie di giovani innamorati si esercitavano nell'attività più antica e piacevole. E così, nove mesi più tardi, nacquero quattro bambini. Non avevano poteri straordinari, non erano esseri sovrumani, ma l'influenza dell'astro chiamato Ceres aveva donato a ciascuno di loro un carattere unico e un destino da eroe. Il primo a venire alla luce fu il bello e bastardo. Era così bello che le nonne degli altri piccoli ebbero un leggero attacco di invidia e i vagiti delle bimbe appena nate si trasformarono in sospiri di ammirazione. Il secondo nato, il genio, dimostrò da subito un'intelligenza fuori dal comune. Appena suo papà lo prese in braccio, il bimbo allungò una manina e si mise a giocherellare con il suo orologio da polso. L'orologio, che da sempre rimaneva indietro, da quella notte non solo spaccò il minuto, ma diventò anche calcolatrice. Poi nacque una bambina, Miss Inferno. A differenza degli altri piccoli, lei non piangeva, non pianse neanche quando il dottore la schiaffeggiò. Fece qualcosa di diverso. Ultimo, forse per pigrizia, arrivò il re dello scherzo. Era un bimbo cicciottello, con un talento ancora più grande delle sue enormi guance. Quel bimbo faceva ridere. Più tardi, nel cuore della notte, i quattro papà dei nuovi nati casualmente erano tutti usciti a prendere un po' d'aria. E casualmente stavano tutti pensando alla stessa cosa. Proprio in quel momento, qualcosa cadde da un furgone scuro che stava passando. Una cassa di legno, con un simbolo che nessuno dei quattro uomini aveva mai visto. Non sapevano cosa significasse quel simbolo. Non sapevano chi sarebbero diventati i loro figli. Ma in quel momento, avevano tutti voglia di una birra. E quello era solo l'inizio. Ma in quel momento, avevano tutti i nostri amici.